Sulle grandi città e sulle dorsali fondamentali che hanno un rilievo europeo e quindi le grandi città che sono Napoli, Bari, Palermo soprattutto e anche la fascia di quelle intermedie come Salerno, Reggio Calabria, Catania e così via e sulle direttrici che collegano queste. Importante è investire anche all'interno dei nodi urbani e quindi il grande intervento che stiamo facendo a Palermo, gli interventi che stiamo facendo sulla parte tangenziale di Napoli, il grande intervento anche dentro Bari per collegarlo ai vari tratti di rete e soprattutto poi la Napoli-Bari a alta capacità, i grandi interventi di velocizzazione sulla linea tirrenica del Reggio Calabria e un intervento importante per collegare direttamente Palermo-Catania e Catania-Commessina dove il 3 milioni e mezzo di persone su 5 e mezzo di Sicilia ogni giorno lavorano, hanno attività, hanno relazioni.